Il più importante concorso nazionale sull'innovazione tecnologica è che dà la possibilità a giovani e giovani ricercatori e in generale a talenti di produrre delle start-up innovative su molte materie del vivere comune. Voglio dire che portare la fase finale all'Aquila di questo premio nazionale vuol dire dare molto prestigio al capoluogo regionale e a tutto l'Abruzzo. Non è sempre stato così, ci sono stati anni difficili in cui persino celebrare la parte regionale, quindi dare l'opportunità ai giovani talenti di mettersi in mostra era complicato perché non c'erano le risorse e in quel caso siamo intervenuti come Consiglio regionale e come Regione Abruzzo aiutando economicamente e oggi vogliamo i risultati tre anni dopo di questo percorso che spero riguarderà anche oltre che tanti giovani italiani e anche tanti giovani abruzzesi che hanno una grande platea per far conoscere le proprie idee di innovazione che sono in gran parte già oggi delle imprese.